ciao a tutti benvenuti a questa nuova puntata di never ending movie la rubrica di lega nerd che parla delle ultime uscite in un video oggi vi parliamo di underworld blood wars l'ultimo capitolo uscito della saga appunto di underworld e della vampira selene abbiamo quattro versioni diverse di un video naturalmente il classico dvd che come al solito quello più sfoglio di contenuti speciali il blu ray il blu ray steelbook e il blu ray ultra hd in 4k questi ultimi tre formati ovvero quelli in blu ray hanno tutti gli stessi contenuti speciali oltre a questi quattro supporti con il singolo film abbiamo anche due raccolte con tutta la saga di underworld la versione in dvd e la versione in blu ray nella versione dvd abbiamo soltanto due inserti speciali il primo è sangue vecchio e nuovo il secondo è l'evoluzione del male sicuramente vedremo qualche documentario dedicato alla realizzazione del film e un po al ritorno di questo underworld anche un po inaspettato nelle tre edizioni blu ray invece abbiamo oltre agli inserti speciali che abbiamo detto nel dvd abbiamo anche l'evoluzione di selene e come si crea una guerra di sangue anche oggi abbiamo finito avete scelto il vostro preferito avete deciso cosa acquistare perfetto recatevi nel vostro punto media world più vicino e cacciate fuori la pilla per l'ultimo per ora capitolo della saga di underworld ci vediamo un saluto a tutti da roby rai sempre qui sulle ganea oggi vi parliamo di a Ah!